Si sono svolte le lezioni, dunque il nuovo direttivo della Proloco tra conferme e novità. Certamente, giovedì abbiamo svolto le lezioni e diciamo con la mia figura continuiamo il progetto che aveva iniziato 8 anni fa Gioacchino e il suo team. Abbiamo ovviamente inserito qualcosa di nuovo perché poi la pandemia a un certo punto ha ridotto ai minimi storici la Proloco di Sorongarina e quindi ripartiamo da qualche camminata, ripartiamo da qualche evento culturale e ovviamente la festa della Perangelica non può mancare. Vediamo se riusciamo a inserire qualche altra festa. Quindi insomma vi siete già messi al lavoro? Sì, 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 certamente. Il tesseramento invece è già partito? Il tesseramento partirà a breve, abbiamo fatto già domanda per le tessere e a fine marzo avremo la cena sociale dove tutti i soci saranno invitati e anche i nuovi soci saranno invitati perché abbiamo bisogno di forza lavoro, dobbiamo crescere, se vogliamo fare i bei eventi serve diversa gente. Diverse dunque le iniziative in programma ma anche un territorio bello ampio? Certo, il territorio è molto ampio, infatti non spaziamo solo su Sorongarina, abbiamo Tavernelle, abbiamo Barnia, abbiamo Pozzuolo e in ogni borgo pensiamo di fare qualcosa di importante nell'anno.